Pistoia e Caserta si incontreranno per la dodicesima volta nella loro storia cestistica. Il primo confronto in assoluto risale al 28 settembre 1989, quando Crippe e compagni che militavano in A2 passarono a Pezza delle Noci 83-90, bissando così un mese dopo in casa, 98-94, con la qualificazione quarti di Coppa Italia. In campionato invece il primo duelle datato 6 dicembre 1992 al Pallacarrara, successo in volata per la Fonola, firmato da un trentelo di Esposito e i venti di Gentile. Greg Anderson, orfano di Frenca, a sgomitare sotto canestro contro Joe Binion e Dangei, abili a catturare 28 rimbalzi in due. El Diablo ancora decisivo nella gara di ritorno con 23 punti, mentre dall'altra parte Minto non riuscì a segnare il canestro del sorpasso a fil di sirena. Equilibrate anche le due gare della stagione seguente, al Palamaggio Kleenex costantemente avanti, poi Caldwell sbagliò i liberi della vittoria dando via libera agli avversari, 78-75. Binion mise in difficoltà a Sheckleford, che pur non brillando risultò decisivo nei momenti cruciali. Cappo al ritorno con tanti rimpianti, Caserta in vantaggio fino a 45 secondi dalla sirena, poi tripla di Murphy. Buonaccorsi mandò sul ferro la palla del supplementare Libri di Crippa per l'83-79 conclusivo. Tre bianconeri non bastarono i 22 a testa di Tinkle e Buonaccorsi. Dopo una lunga assenza, le due compagini si incontrarono in Lega 2 nella stagione 2007-2008, quella della promozione in A1 della Lora Pepsi. La Karmatic di Lasi, il 9 dicembre, si arrese 80-69 grazie alla regia di Childress e ai 16 di Johnson. Poco fecero gli ex Tyler e Bencaster. Al ritorno riscatto biancorosso per 77-67. L'anno scorso 87-76 per i Toscani, con 20 a testa di Filloi e Ivanov. Beffardo invece il 73-68 di due stagioni orsono, quando i bianconeri uscirono fuori dai playoff per differenza Canestri. Il bilancio complessivo parla di 5 successi casertani, uno solo in trasferta e 7 per i Toscani.